Bioenergy Italy, in fiera a Cremona, salone delle tecnologie per le biomasse e per le rinnovabili in agricoltura, ha ospitato oggi un importante convegno sulla produzione di biometano attraverso il processo di upgrading, cioè di depurazione e di raffinazione del biogas, con tre differenti destinazioni, emissione in rete, autotrazione, cogenerazione ad alto rendimento. Il gas ricavato è metano al 95% e l'impiego più interessante è sicuramente quello di biocarburante. È questa la nuova scommessa per le aziende agrozootecniche che producono energia da fonti rinnovabili. È insieme una nuova opportunità per i mercati e per l'ambiente, mentre è in corso l'iter legislativo che porti a piena attuazione il decreto emesso lo scorso dicembre per stabilire gli incentivi con durata ventennale che saranno destinati alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale. Un orizzonte di sicuro interesse per lo stesso paese Italia, che oggi importa la quasi totalità del metano utilizzato dall'estero. Finalmente siamo riusciti a fare un decreto. L'abbiamo fatto in concorso e di concerto con il Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo economico. È un grande risultato l'emanazione del decreto. Ora l'attuazione concreta di questo decreto, che certamente darà un sostegno reale alle imprese agricole, aiuterà a migliorare l'ambiente, a migliorare il territorio, a utilizzare i sottoprodotti dell'agricoltura e soprattutto darà una spinta verso quella impresa sempre più competitiva, che valorizza anche i sottoprodotti. Quindi è anche un segnale molto forte in direzione ambientale. Non a caso l'incontro di oggi è fatto con Lega Ambiente per dire che questa è la vera sfida del futuro, questa è la sfida che noi tutti vogliamo lanciare, una impresa agricola sempre più competitiva, ma un'impresa agricola che sul piano energetico sappia anche utilizzare quelle risorse naturali che ci sono nella utilizzazione degli scarti in agricoltura. Anche quest'anno la manifestazione di Cremona Fiere dedicata alle agroenergie è stata capace di farsi pilota e bussola per gli operatori del settore, presentando opportunità e un continuo aggiornamento normativo, economico e tecnologico.